Ciao a tutti e benvenuti nel mio vlog dopo l'esperienza di aver fatto un vlog e una recensione in combo con quella pazza di Revy91 che saluto, ciao oggi torno in singolo per fare questo vlog dicendovi di cosa parlerò la prossima settimana ovvero cominciò a parlare di Resident Evil partendo dallo 0 fino ad arrivare al 5 parlando anche dei 3 film non di Afterlife anche perchè non l'ho visto ma ho detto che è una cavolata bestiale e anche di uno dei libri che ho letto sempre di Resident Evil notizia di notizia di NDR nota di redazione se ai miei fan interessa pubblico video solo martedì, mercoledì e venerdì perchè lunedì e giovedì avrò impegni sportivi ma niente di più buono con questo vi saluto sì sì yeah guys ciao ciao